Le istituzioni devono essere tra le persone, devono essere in mezzo alla gente. Le istituzioni devono aprirsi alle critiche delle persone e alle proposte che vengono fatte fuori da questo palazzo. Per questo accetto gli inviti a partecipare a incontri in varie città italiane che mi aiutano a comprendere ancora meglio le difficoltà in cui si dibatte la nostra società e anche le straordinarie potenzialità umane e materiali di cui è ricco il nostro Paese. E per la stessa ragione, quando gli impegni istituzionali mi lo consentono, incontro qui a Montecitorio tante delegazioni di lavoratori, imprenditori, amministratori locali, associazioni della società civile che pur tra mille difficoltà continuano a ritenere la Camera dei Deputati un punto di riferimento, un'istituzione alla quale rivolgersi per vedere considerati i loro problemi e ascoltate le loro istanze. A volte basta solo questo per dare un segnale che le istituzioni ci sono.